Peter Jackson è tornato con una nuova avventura cinematografica nella Terra di Mezzo. Ancora con grandi ambizioni spettacolari e toni epici, il regista neozelandese torna a dar vita sullo schermo ai racconti e ai personaggi tratti dalla fantasia di Tolkien. Questa volta il protagonista è Bilbo Baggins, vecchio zio di Frodo, che fu il primo a trovare l'anello del potere. La vicenda infatti è tratta dal romanzo Lo Hobbit, precedente la saga del Signore degli Anelli. Accanto a Bilbo, in viaggio verso la montagna solitaria, vediamo un gruppo di nani determinati a liberare la loro terra d'origine dalle Grinfeld e il malvagio drago Smaug. Oltre a questi si ritrovano vecchi personaggi come Gandalf, Elrond e Saruman. La nuova trilogia mette in luce aspetti certamente innovativi. Un tono allegro, quasi da commedia, dovuto soprattutto al bravissimo interprete principale, l'inglese Martin Freeman. Oltre a questo vanno sottolineati i principali cambiamenti tecnici apportati al film. Un uso massiccio e decisivo della computer graphics, una tridimensionalità ludica da cinema delle attrazioni e infine una velocità di immagine di 48 fotogrammi al secondo, che rende difficile capire la differenza tra attori in carne e ossa e personaggi digitali. Dal punto di vista narrativo, invece, Jackson e il suo team, con l'aggiunta di Guillermo del Toro, non sono riusciti a costruire una storia e una sceneggiatura avvincente e complessa come in passato era accaduto con gli episodi precedenti. Qui sembra tutto già visto e tirato per le lunghe. Probabilmente il progetto nato dal lavoro dello stesso Del Toro e passato a Jackson in un secondo momento ha risentito del cambio in cabina di regia. Infatti all'inizio questa trasposizione era stata pensata per due film al posto che tre e si capisce poco la decisione di dedicare così tante ore di pellicola a un libro di 300 pagine. O perlomeno lo si capisce da un punto di vista meramente economico. Gli spettatori probabilmente si divertiranno ancora al cinema davanti allo spettacolo messo in scena da Jackson. Certo è che poco rimarrà di questo film nella loro memoria.